Mare per tutti, proposte per la gestione delle spiagge libere, se ne è parlato nel corso di una conferenza stampa organizzata nei giorni scorsi a Ostia. Oggi con il comitato Mare per tutti, di cui l'associazione Mare Libero fa parte, vorremmo portare all'attenzione dei cittadini il problema delle spiagge libere di Ostia, che nel corso degli ultimi anni hanno subito un decadimento sia strutturale che ambientale, dovuto anche all'eliminazione dei chioschi che sono stati abbattuti perché c'erano delle irregolarità. Però al posto dei chioschi non è nato nient'altro, quindi le spiagge sono libere ma sono vuote. Il nostro timore è che si ripete esattamente la stagione devastante che si è consumata lo scorso anno, con spiagge libere lasciate in completo abbandono, cioè un vuoto normativo totale. Mentre l'amministrazione comunale spandeva e spargeva risorse per fare la spiaggia a Ponte Marconi, la spiaggia artificiale, ci si dimenticava completamente del litorale romano, del vero mare di Roma. E le spiagge libere lasciate in abbandono hanno determinato il consolidamento dell'esistente, cioè la legittimazione di quello che qui accade. È migliorata la vita per i bagnanti che arriveranno ad Ostia nei prossimi mesi o si rischia il copione dello scorso anno? No, anzi, come lo scorso anno? Purtroppo in un anno non hanno fatto nulla. Pensi soltanto che l'ex Arca, che è una grande spiaggia che è libera oramai da un anno, era disponibile, dovevano fare, dovevano fare, dovevano fare. Mi pare di capire che anche lì quest'anno non faranno nulla. Anche altre vicende che avevamo posto, per esempio dove c'era l'aria Cani, di spostare l'aria Cani e lasciare quel pezzetto di spiaggia a Nuova Ostia, a quella zona lì. Anche lì si sono limitati a fare, diranno quel pezzetto di spiaggia in due, quindi ci saranno altre polemiche. Per il resto c'è un'inerzia. D'altra parte il fallimento di questa amministrazione sulle spiagge, poi produce anche questa vicenda che vogliono levargli le deleghe. Con questa conferenza il Comitato Mare per Tutti ha lanciato una proposta a piazza della stazione Vecchia. Il municipio non può rilasciare nuove concessioni per la gestione delle spiagge libere perché la legge regionale impone che si rispetti il limite di almeno il 50% di spiagge libere prima di rilasciare nuove concessioni. Su questo però c'è uno strumento molto chiaro, è lo strumento della revoca delle decadenze. Quindi l'amministrazione deve reevocare le concessioni, visto che tra l'altro sono già da intendersi completamente scadute grazie alle sentenze che danno seguito alla Bolkenstein. In questo modo si rientra all'interno del limite del 50% e quindi si possono rilasciare le nuove concessioni. Una proposta che il municipio in effetti potrebbe accogliere se non fosse intenzionato già a restituire al Campidoglio la gestione delle spiagge.